video play buonasera, benvenuti a tutti il protocoristo sei tu divertitevi, buona serata che cos'è? io sono il papà della della festeggiata e gli auguro tanti tanti di questi giorni Alessio, piccolina ti voglio bene auguri, ti amo tanto ti voglio bene, un bacio ciao 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 ragazzi potrebbe succedere di tutto ma siamo qui tutti riuniti lo staff kurasao signori, per fare gli auguri alla nostra festeggiata di questa sera che si chiama? Alessia e allora Alessia ti facciamo tanti auguri auguri Alessia video play? dobbiamo più appiggiare qualcosa no? che c'è a parte? il protocoristo sei tu ma forse c'è qualcosa in giù quanto tempo dobbiamo stare qui? si, ti ho voluto di scema ma lei deve essere una coccazzulla si, ma non si vede ancora niente quanto tempo dobbiamo fare di scema? finalmente sono Alessia speriamo che te ne fai ambresso tesoro è mio dobbiamo guardare qua video play Alessia auguri 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 Alessia tanti tanti auguri e questo dobbiamo dire stai nel confessionale confettati ecco allora siamo nel confessionale di grande rodello che c'è a parte? io sono Gio Mariano e dobbiamo tanti auguri a Alessia Espi, oh Espi sei pronto? dobbiamo più appiggiare qualcosa? tanti auguri auguri un giorno importantissimo fa 18 anni e niente goditeli e domani si parte ti amo e ti amo facciamo gli auguri ad Alessia ha detto che sei ispirato questa sera si vede ancora niente poi ti voglio dire che c'è un bel millino da tuo fratello Gianni in busta 500 500 500 solo tu lavori con il millino tu no? cosa stanna buona vabbè ma comunque tranquilla vabbè ma te ne vedi a te ne vedi a te ne vedi ciao auguri ciao sei bellissima stasera ciao auguri si nasca mamma mia non è vero Alessia non compro Alessia non ti prende la prima stita ti sei brava brava allora che ti sgama non siamo stati uccide brava Alessia per me sei perfetta non è vero non è vero Alessia sei perfetta sei il mio pollicino facciamo e che c'è fatto c'è la telecamera all'alto ma dove dobbiamo guardare video play Alessia ma sono affezionata è la terza volta che te la fucca a dire ciao Alessia ti auguri è bellissima no ma questa cosa dopo la vedo non è un'opera non lo so il protocollista sei tu speriamo di nuovo perché mi hai detto come tra ballene parla grazia vai allora noi siamo gli zii di Alessia vogliamo augurargli tutto il bene di questo mondo perché una brava ragazza merita questo ed altro auguri Alessia auguri Alessia 1,2,3 auguri direttamente dal grande fratello video play ma ci vedete che siamo quasi però caldo auguri Alessia che c'è a parte si nascemo partiamo da questa però ti vogliamo bene lo stesso tanti auguri e siamo felici aspetta siamo felici di essere state invitate ok soprattutto noi ti auguriamo tanta felicità allora se Guido mi sta ascoltando in questo momento non ti devi più rompere le palle tu pure non ti esaurite quindi dica è un consiglio che vi do perché sennò non campate bene e ti auguriamo la vita migliore del mondo auguri ti nominiamo? si si nominiamo infatti tanti auguri ciao allora lui è il fratello io sono il papà della festeggiata un grandissimo augurio a mia figlia e a sua sorella auguri Ale auguri 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 un bacio grande ciao auguri buon compleanno buon compleanno buon compleanno buon compleanno innanzitutto sei una scimmia no sei una scimmia tu non l'hai fatta sentire male per farebbe l'aver fatto sta ragazzo messo comunque sei bellissima Stasia non c'è la pensare perché la bellezza è bene ok tanto è successo guarda il fatto che tu sei eccesso questa è vera vuol dire un po' più carina però mi guarda sei un po' eccesso maestri ci vediamo auguri maestri ci vediamo maestri ci vediamo siamo già ma forse c'è qualcosa di tutto 1,2,3 auguri Alessia ciao Ale è già partita ciao Ale Ale volevo dirti una cosa io ti auguro il meglio della vita il meglio che tu possa avere mi sei come Francesca siamo cresciute insieme siamo cresciuti insieme quindi veramente il meglio della vita veramente della vita ti possa sorprendere in bocca al lupo per questa festa ciao no mi vergogno Alessia questa sera gli auguri sono infiniti questa è la quarta volta che entro e mi ha costretta e mi ha portato non l'ho costretta perché lei è venuta di sua spontanea volontà voleva farti gli auguri auguri Ale che le auguri? tutto quello che desidera cioè? che desidera che desidera è buono? i soldi serenità salute 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 un bacio riprendi le migliori buonasera che ci apparte ciao faci auguri a zia Alessia a tutti auguri auguri da parte nostra prima sono venuto con un po' fratelli adesso con tua sorella adesso con tua sorella si è diventata vecchia è diventata vecchia? si hai compiuto hai visto com'è bella? 81 al contrario è molto bella stasera hai visto? sei splendida Alessia Alessia un bacio forte vata 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 e ti auguriamo tutto il bene di questo mondo ciao che ci apparte allora noi siamo le cognate auguri ad Alessia un bacione tanti auguri auguri amore auguri Alessia 18 anni bella stasera in galera ma puoi dire non sono comunque un colcarettore con la destra sanitaria di Rosanna con la destra sanitaria come potete le altre persone non è lei allora ciao ragazzi viva le fiamme femministe ciao 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 a tutti a tutti a tutti a tutti st 전 presto e basta ti auguro tanta felicità e buon anno allora siamo le persone più importanti da questo momento adesso te li faccio meglio ciao a tutti grazie di essere venuti sono emozionatissima vi voglio appena un mezzo ciao video play dobbiamo più appiggiare qualcosa no? ciao 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 ciao